Le scatole ben accatastate l'una sull'altra, il cane molecolare che annusa ogni centimetro. Così è stato portato a termine l'ultimo maxi sequestro al porto di Gioia Tauro da parte della Guardia di Finanza di Reggio Calabria. Stavolta la droga è stata trovata all'interno di un container che trasportava banane, 150 kg di cocaina. La provenienza è il Sud America, il porto di Turbo, sponda atlantica della Colombia. La destinazione, la Calabria, per poi venire spacciata in Italia e in tutta Europa. Quotidiani i controlli da parte della Guardia di Finanza, anche grazie a scanner di ultima generazione, in quello che in passato era definito il porto dell'Andrangheta. Coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, guidata da Giovanni Bombardieri, i militari hanno scoperto il container sospetto tra mille provenienti dal Sud America. Era su un'imbarcazione commerciale. La cocaina è stata analizzata ed è risultata di qualità purissima. Significa che avrebbe potuto essere tagliata fino a quattro volte prima di essere immessa sul mercato, garantendo ai trafficanti un introito di oltre 30 milioni di euro. E il colpo inferto in Calabria al narcotraffico suscita l'apprezzamento del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ringrazia magistratura e forza dell'ordine. La lotta alla droga rappresenta una priorità nella nostra attività di governo, scrive il ministro in una nota, un tassello fondamentale per garantire sicurezza e legalità nelle nostre città.